Due navi accoppiate nel molo più interno del porto di Taranto, il molo San Cataldo, con la statua che indica il Citro in Mar Grande, sono già uno spettacolo. Oggi la main shift e la costa fascinosa che hanno riempito di turisti il centro storico e non soltanto, turisti che hanno poi a piedi raggiunto il castello aragonese incrociando anche ciclisti in gita. L'antico maniero della marina militare è sicuramente attrattivo. Per tutta una serie di motivazioni che abbiamo spesso raccontato, ma anche per i non appassionati di storia dell'arte, è ricco di fascino, in quanto forse ancora uno dei pochi castelli a guardia di un importante canale marittimo in funzione come presidio militare, che ha saputo abbinare la sua valenza storica alla necessità di dotare la città bimare di un luogo dove organizzare eventi di ogni tipo in un contesto assolutamente unico. Le due navi da crociera con il loro carico di turisti in vacanza, tutto compreso, non risolvono, si sa, i problemi del turismo tarantino, ma ne evidenziano fino in fondo le potenzialità e poi allenano addetti ai lavori e cittadini alla cultura dell'accoglienza. Da un sorriso in più al bar, da qualche gesto di amicizia spontaneo per le strade, senza guardare di sbiego chi viene da lontano, è il minimo contrattuale. Puoi offrire servizi efficienti e costi accessibili, senza pensare ad un atteggiamento mordi e fuggi, che non fa bene assolutamente all'immagine che questi vacanzieri racconteranno ai propri conterranei un lavoro difficile ma intelligente, che non è cosa da fiato corto e sprint, ma da strategie finalizzate, a portare più flussi turistici nella città bellissima nella quale viviamo, con due interrogativi di sempre. Dove li facciamo alloggiare? E soprattutto facilitare l'arrivo in città, che oggi come minimo è complesso. Trenitalia annuncia che il Frecciarossa Taranto-Roma riprende e ci mancherebbe, ma non basta. Ecco la grande sfida alla quale pensare subito. Nel 2025 Taranto, città europea dello sport e soprattutto giochi del Mediterraneo 2026, sono dietro la porta.